che poi è chiaro che se arriva una offerta cosiddetta monstre cioè alle quali non si può dire di no carica batteria effetto speciale non richiesto è ovvio che viene presa in considerazione per esempio se mi arriva un'offerta per lei viene presa in considerazione naturalmente no scherzi a parte ma non scherzo no in realtà allora ritorno sulla questione di bala no io ho avuto risposta da fonte diretta che lui non si sposta dalla juve così come non si sposta cristiano ronaldo però sapete benissimo non sto tornando sui miei passi assolutamente sapete bene mi va per completezza di informazione o per completezza di discorso perché mi piace parlare a 360 gradi è normale che non esiste nessuno di incedibile ossia arriva un'offerta pazzesca per di bala avuto lì è ovvio che quantomeno viene presa in considerazione per offerta pazzesca io posso fare un esempio non so la juve bisogna di una punta bisogna di un trequartista magari a pirlo piace l'idea di giocare con un trequartista o comunque con una mezzala di un certo tipo di un certo valore di una certa esperienza nazionale il real madrid impazzisce e dice voglio di bala vi do 80 milioni più isco allora io la prendo in considerazione l'offerta la juve credo che farebbe altrettanto credo che molti di voi sarebbero d'accordo nel prenderla in considerazione che non vuol dire sì accetto sì facciamolo ma comunque parliamone ecco quando riuscirò a sistemare il telefonino ecco parliamone no questo per dirvi che l'incedibilità assoluta non esiste per nessuno una volta c'era adesso non esiste più è un modo diverso di intendere il mercato di intendere rapporto con i giocatori eccetera quindi quando leggevo tempo fa ma ve l'avevo anche detto di bala vita la juve a vita non ci sta più nessuno in nessuna squadra a vita a vita è finito con del piero con totti con maldini con zanetti fine del discorso a vita non esiste più ok oppure ci si arriva per una serie di coincidenze quindi a posteriori dopo dici una volta che è finita la gara dice a vita è stato in questa squadra ma come intenzione non esiste più perché ho fatto tutto sto discorso sono anche un po no perché appunto vi stavo dicendo che tutto è possibile ancora ma c'è questa rassicurazione anche perché poi dopo se ne leggono tante tra le tante e questa qua di pogba è veramente un'altra situazione da io adesso voglio essere tranquillo da esaminare secondo logica perché mi uscirebbe un appellativo un po un po più colorito diciamo così allora io dico che la esamino secondo logica ammesso che ci sia una logica però provo a ragionare in questo senso la juve deve monetizzare alla juve piacerebbe sicuramente un giocatore come pogba a chi non piacerebbe secondo il daily sport lo united ha proposto uno scambio alla pari swap deal swap deal vuol dire scambio alla pari contratto o comunque scambio alla pari ma allora dov'è che monetizza la juve se dà corso ad una operazione di questo genere doveva monetizzare se me lo scambia la pari siamo sempre lì mi rinforzi il centrocampo sicuramente ma mi indebolisci l'attacco perché poi non hai eventualmente i soldi per andare sul mercato e prendere la grande punta perché ragazzi se se diballa dovesse lasciare la juventus ripeto in questo momento ipotesi non praticabile ma se diballa dovesse lasciare la juventus in virtù di questa offerta di questa cifra è chiaro che la juventus punterebbe un pochino più in alto rispetto a milic ok cioè avrebbe a disposizione non tutti quei soldi perché lo sapete benissimo non tutti i soldi vengono reimpiegati ma una parte superiore a quella che avrebbe normalmente per puntare a qualcosa di un pochino più su di milic perché milic è sicuramente un ottimo giocatore ma non stiamo parlando del più grande centravanti del mondo ok quindi se tu mi fai lo scambio la pari con Pogba la logica mi fa dire che non siamo da capo siamo allo stesso punto di prima hai un bel centrocampo ma c'è un bel buco in attacco poi non so di fare una scelta meglio Pogba centrocampo e milic in attacco o meglio un centrocampo con un centrocampista magari di minore livello rispetto a quello di Pogba ma con una bella punta là davanti non lo so cioè è chiaro che sono tutte domande sono tutte riflessioni che poi noi ci facciamo non dico con chiacchiere da bar cerchiamo di fare qualcosa di più di una chiacchiera da bar ma cerchiamo neanche di applicare la logica dell'uomo della strada no cioè non lo so non lo so la vedo veramente strana questa situazione e poi resta questo discorso qua del famoso casting appunto per la punta ci sarebbe in programma un incontro con Per Gimenez tra la Juve Orge Mendes che è il procuratore io continuo a pensare che sia una scommessa molto difficile Gimenez mi dà più affidamento GECO ragazzi cioè parliamoci chiaro però il discorso di svecchiamento chiaramente crolla in questo caso no? e rimango della mia idea che se proprio dovessi scegliere uno di quei nomi che sono stati fatti punterei decisamente su Morata per la conoscenza compirlo la conoscenza dell'ambiente poi perché Alvaro Morata Alvaro Morata Alvaro Morata per me è una sia pur nel breve tempo in cui è rimasto è diventato un'immagine della Juventus un'immagine vi ricordate il gol che siglò l'anno che poi se ne andò via nella finale di Coppa Italia contro il Milan nei supplementari un gol da campione assoluto vi ricordo ancora tutto di quell'azione tutto di quell'azione un gol straordinario nei tempi supplementari da subentrato cioè secondo me lui è un'immagine da Juventus assolutamente al di là del fatto che secondo me è un ragazzo di grandissimo valore tecnico e alla Juventus renderebbe tornerebbe a rendere per quello che era prima in quale schieramento? perché poi anche questo intriga ragazzi perché adesso corre voce che Pirlo voglia adottare la difesa a tre quindi o 3-5-2 o 3-4-1-2 dipende se vuoi giocare col trequartista o meno dipende anche dalla posizione che vuoi dare a Kuluseski però anche questo è intrigante perché è vero che è un ritorno al passato ma i ritorno al passato perché devono essere bocciati? specialmente se hanno portato a dei risultati positivi con Pirlo in campo perché Conte modificò il suo assetto proprio perché c'era Pirlo che lui non voleva all'inizio Conte non lo voleva all'inizio se l'è trovato lì va beh ce l'ho però ha modificato dal 4-2-4 che praticava nelle sue squadre precedenti e passato al 3-5-2 e sarebbe molto affascinante secondo me ripristinare questo modulo che peraltro non sarebbe perché anche Pirlo credo di aver capito che è un giocatore ovvio è un giocatore è un allenatore piuttosto duttile perché ha parlato anche di 4-3-3 e quindi è sicuramente un allenatore che non si fossilizzerebbe su uno schema assoluto avrebbe forse un suo schema senza forse un suo schema di partenza sul quale lavorare ma la difesa a tre secondo me sarebbe ancora bella da vedere bella da vedere che poi parliamoci chiaro la difesa a tre di per sé non esiste diventa a cinque in fase difensiva e in fase offensiva e resta a tre insomma è sostanzialmente questo però è un po' come tornare no a certe origini si tratterebbe di capire con chi la può praticare Bonucci e Chiellini ci sono ancora manca Barzagli qui però adesso andiamo un po' troppo nella Marcord insomma ci sono giocatori che possono farla questa difesa a tre perché insomma dell'X secondo me lì in mezzo quando tornerà a giocare a proposito ormai non prima della fine dell'anno cioè si è partiti con metà ottobre novembre adesso siamo alla fine dell'anno secondo me ragazzi torna molto prima della fine dell'anno però fa comodo dire che non lo vedremo fino alla fine del 2020 e quindi è più bello no perché spari cioè crei più tensione più ansia più incazzature in quel mondo lì hai capito e quindi la Juve in emergenza perché fino alla fine dell'anno non si vedrà Delict secondo me si vede molto prima della fine dell'anno però vabbè ok comunque Delict potrebbe esserci lì in mezzo potrebbe esserci con Demiral e con Bonucci stesso perché no perché no la vedrei anche bene questa 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 nuova soluzione di Andrea Pirlo l'importante io credo che questa squadra faccia qualcosa di diverso secondo me dal punto di vista della preparazione perché io mi sto facendo questo interrogativo e con questo vi lascio ho visto l'Atalanta l'altra sera mi è dispiaciuto tantissimo tantissimo ho veramente sofferto nel finale mi è spiaciuto tantissimo ok per questa eliminazione ma Paris Saint-Germain era obiettivamente più forte tecnicamente si vedeva quando partivano che poteva farti del male in qualunque momento però ho visto una condizione atletica che nella Juve non vedevo negli ultimi tempi e ho visto anche l'Inter di questo periodo e vedo una condizione atletica che la Juve probabilmente in questo periodo non avrebbe cioè se la Juve fosse andata avanti dopo la partita con il Lione e si dovesse giocare la partita con il City credo che non avrebbe questa condizione atletica vista dall'Inter vista con l'Inter quindi delle due l'una o è stata sbagliata la preparazione o proprio ragazzi quel feeling lì non si è mai acceso con Sarri e a un certo punto anche la testa andava per i cavoli suoi e le gambe non la seguivano perché non credo ci sia altra spiegazione e non credo che ci sia una via di mezzo io propendo di più diciamo per la seconda delle due ipotesi che ho citato però magari qualcosa anche a livello di preparazione specialmente magari dopo il covid eccetera non è andato come si pensato ma questo è il passato pensiamo al futuro ragionando sul presente mazza che finale ciao ragazzi